Buongiorno, noi praticamente come istituto Pascal abbiamo pensato di gestire l'alternanza scuola lavoro con l'impresa formativa simulata, di fatto abbiamo aderito al consorzio CONFAO a febbraio 2017, quindi abbiamo appena iniziato e abbiamo pensato di coinvolgere degli stakeholder che già collaborano con noi normalmente, quindi innanzitutto AICA, visto che Pascal è un academy insomma di AICA, un test center da anni e visto che il referente di AICA, il professor Gerardo Fariello ha chiesto l'accreditamento per erogare anche la certificazione European Project Management Qualification in modo curricolare, quindi all'interno della disciplina gestione progetto, organizzazione d'impresa che è una disciplina prevista al quinto anno, noi siamo un istituto tecnico, quindi di fatto un istituto tecnico tecnologico, è una disciplina che è presente in tutte le quinte del tecnico tecnologico, tre ore a settimana e quindi dobbiamo capire come gestirla in funzione anche dell'alternanza e oltre ad AICA collaborano con noi i Cisco, quindi eroghiamo anche certificazioni Cisco curricularmente e il problema principale, quello che ha sottolineato Patrick Baratin, è come gestire la burocrazia perché il nostro provider di registro elettronico che è Argo prevede un tool per gestire l'alternanza scuola lavoro, però dobbiamo capire come usarlo al meglio e come integrarlo con la piattaforma CONFAO che è quella che ci consente di gestire le sei fasi previste dalle linee guida dell'alternanza scuola lavoro per l'impresa formativa simulata. Di fatto noi siamo riusciti a coinvolgere varie realtà lavorative, compresa anche l'associazione dei radio amatori italiani perché vogliamo far realizzare ai ragazzi dei prodotti veri e propri e vogliamo anche valorizzare le strutture della scuola, quindi la ARI ci aiuterà a trasformare la sala radio che sta presente nella scuola già dagli anni 90 in una sala radio e IOT, discorso che faceva prima il liceo Pasteur. La cosa secondo noi interessante è che in tre anni i ragazzi costituiranno questa azienda virtuale animata da loro stessi, avvieranno un vero e proprio e-commerce simulato e avranno la possibilità di osservare vere realtà lavorative. Di fatto una realtà fondamentale per la nostra scuola è stata AICA perché quando abbiamo appunto chiesto l'accreditamento abbiamo avuto modo di ospitare presso la nostra scuola Carmen Genovese e Alberto Graziani di AICA per cercare anche grazie a loro di capire come formalizzare queste ore. Bene o male noi visto che questi ragazzi in tre anni dovranno svolgere 400 ore di alternanza, noi per adesso pensiamo di dividerne una parte in ore curricolari, una parte in ore in piattaforma e una parte in ore extracurricolari. Quindi di fatto tutte le aziende che sono venute da noi come Cisco, Aditinet, verranno Infocamere, verrà il GAR e Venutari tante volte. Le attività che faremo presso la scuola bene o male le possiamo considerare come ore curricolari, le attività come quella di oggi, di fatto i ragazzi di terza e di quarta sono presenti qui invitati da AICA, possiamo considerarle come ore curricolari. Il difficile è capire come gestire le ore extracurricolari perché ad esempio per quanto riguarda la certificazione EPMQ, noi al momento attuale la stiamo facendo con le quinte, poi lascio la parola all'alunno Gian Leo Perilla di Quinta, noi per adesso con gli strumenti che abbiamo, noi abbiamo Pierfranco Ravotto che vedo in sala, che ci ha attivato un corso pilota su fare didattica, sulle PMQ. Allo stato attuale noi abbiamo dei test di autovalutazione, quindi possiamo valutare tre ore questi test di autovalutazione di alternanza in piattaforma. Per Cisco invece abbiamo dei tool che ci conteggiano le ore, tutte le attività temporizzate vengono conteggiate dalla piattaforma e quindi abbiamo modo di capire il risultato degli esami sia in presenza che a distanza e un conteggio di ore è semplice da fare. Dobbiamo capire con AICA come sfruttare la materia gestione progetto, organizzazione d'impresa visto che si fa l'impresa formativa simulata e visto che di fatto in quinta su tre ore a settimana di gestione progetto una è in laboratorio, quindi sarebbero 33 ore di laboratorio cercare di capire se utilizzarle tutte oppure conteggiare solo i ragazzi che riescono a superare la certificazione. Anche perché trovando questo flyer dentro la sacca rossa che ci avete dato quando vedo le CDL gratis con il PON noi dobbiamo sfruttare proprio questo perché una criticità penso di tutte le scuole è non tanto vincerli i PON quanto gestirli e quindi noi abbiamo bisogno di un supporto enorme per gestire i PON perché in questo modo noi riusciremo oltre a far fare ai ragazzi alternanza scuola lavoro riusciremo anche a farli conseguire sia le certificazioni Cisco sia le certificazioni AICA in modo gratuito che penso che al giorno d'oggi riuscire a offrire gratuitamente le certificazioni informatiche ai ragazzi in un'ottica di alternanza scuola lavoro penso che sia fondamentale. Lascio la parola al Gian Leo Perilla e lui praticamente ha osservato i lavori che hanno svolto i ragazzi di terza e di quarta che hanno presentato alle aziende, abbiamo messo tutto sul nostro sito internet, lui ha osservato i lavori delle terze e le quarte, lui avendo svolto gli argomenti previsti dalle PMQ di AICA ha ipotizzato quello che potrebbero fare le quarte attuali e le terze attuali quando saranno in quinta per cercare di formalizzare l'idea di impresa formativa simulata. Bene, buongiorno a tutti, come detto prima andremo a trattare sul tema dell'alternanza scuola lavoro per l'impresa formativa simulata. Prima di andare a esaminare i vari progetti svolti dagli studenti dell'istituto Biagio Pascal andiamo a capire gli obiettivi di questo progetto. Questo progetto nasce con l'obiettivo di operare secondo dei criteri, questi criteri sarebbero del learning by doing che sarebbe un'efficace strategia per imparare attraverso l'azione e attraverso il problem solving, sarebbero le tecniche necessarie all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore. Ovviamente queste citate sono quelle più importanti, poi ce ne sarebbero anche altre. Ok, questo è il primo progetto svolto da uno studente del terzo anno, questo progetto sarebbe un'applicazione, ovvero una calcolatrice e per questo progetto sono state utilizzate due software, l'MIT App Inventor che sarebbe un ambiente di sviluppo per applicazioni Android creato da Google. Questo ambiente di sviluppo è stato creato soprattutto per le persone che vogliono programmare semplici applicazioni ad uso personale. Dentro questo ambiente di sviluppo è stato utilizzato Scratch, un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Un altro progetto svolto sempre dagli studenti è il progetto Raspberry. Questo progetto consiste nel controllare dei semplici led da remoto e sono stati utilizzati la Raspberry Pi 3 che sarebbe un calcolatore implementato in una singola scheda elettronica e la Breadboard che è uno strumento utilizzato per creare prototipi di circuiti elettrici. Come funziona questo progetto? La parte fondamentale di questo progetto è il Raspberry Pi perché grazie alla scheda di rete è in grado di controllare i led da remoto tramite il PL Cloud che sarebbe il Prototyping Lab Cloud. Andando sullo specifico sarebbe una piattaforma di cloud computing della Cisco e utilizzando questo servizio è possibile utilizzare due strumenti virtualizzati che sarebbero lo switch button on off che serve a spegnere ad accendere i led e poi lo slider ad aumentare e abbassare la luminosità. Un altro progetto è il progetto del drone quadricottero che questo progetto consiste nello scannerizzare l'ambiente circostante e di riconoscere la scheletratura di una determinata persona con l'obiettivo di seguire il soggetto. Per fare questo progetto sono stati utilizzati l'Arduino, il Tensi, il kit Redboard e parte fondamentale anche i sensori, i sensori di prossimità, di ultrasuoni e laser che sono i componenti principali di questo drone. E come ultimo progetto abbiamo un progetto per la gestione di una pagina social. Abbiamo preso come punto di riferimento YouTube che è una fra le tante pagine social più famose. Per rappresentare questo progetto è stato utilizzato Gantt che è un servizio offerto da Google e serve per rappresentare in modo scientifico un progetto. Solitamente un progetto viene rappresentato in quattro attività principali con le sue corrispettive sottoattività e per ogni sottoattività viene assegnato una risorsa che può essere sia materiale che umana. Passando a come funziona, come si svolge questo progetto andiamo a descriverlo in questo istante. Bene, si inizia innanzitutto con l'acquisto del materiale necessario al fine di poter svolgere il progetto. Una volta acquistato il materiale necessario organizzato tutto quanto si passa alla creazione dei contenuti video perché si sa YouTube offre soltanto la visione di video. Una volta caricato il video si passa a una mossa strategica per aumentare il pubblico con la sponsorizzazione. Si chiede a un canale più famoso, diciamo, con un pubblico più alto di sponsorizzare il proprio canale con l'obiettivo, per l'appunto, l'ultima fase, quella più importante, con l'obiettivo di trarre dei soldi, insomma, di effettuare un contratto con una fra le tante partnership. Ne cito una, ad esempio, una fra le più famose, però appunto, è l'Avevo, che è una compagnia discografica. E tramite questo contratto poi è possibile guadagnare dei soldi grazie ai spot pubblicitari inserito all'interno del video. E con questo è tutto, grazie. Grazie.